Benvenuti, benvenuti a questo incontro dedicato alla gestione del proprio denaro. Sono Giuseppe Santoro, infineco mi occupo da diversi anni di formazione. Oggi parliamo di gestione dei risparmi facendo una premessa doverosa. Il rapporto con il denaro per molti di noi è un aspetto controverso. Alcuni pensano che il denaro si debba solamente accumulare, altri invece pensano di saperlo gestire, ma pochi di noi hanno la consapevolezza che, come per gli altri aspetti importanti della vita, quali ad esempio la salute, è necessario conoscere alcuni concetti di base in modo da non commettere errori. Soprattutto oggi che il mondo della finanza e del risparmio sono estremamente evoluti. Da qui la necessità di avere delle basi per poter affrontare la complessità dei mercati finanziari in modo consapevole. Ecco, l'obiettivo di questo intervento è proprio questo, dare alcuni suggerimenti pratici per riflettere su a cosa serve il denaro che accumuliamo e come gestirlo in modo adeguato. Ed ecco i temi che andremo a trattare oggi pomeriggio. Parleremo di metodo, parleremo quindi dell'approccio che ci aiuta a capire a cosa ci serve il denaro in modo strategico, cosa vuol dire in modo strategico, cioè con una visione di lungo periodo. Gli addetti ai lavori parlano di pianificazione finanziaria, ma in fondo sarebbe più comprensibile parlare di cura, sì di prendersi cura di sé e dei propri cari attraverso la cura dei propri risparmi, se ci sono, e più in generale delle proprie entrate. E attenzione, paradossalmente, ma è anche facile intuirlo, più le entrate e i risparmi sono limitati, più cura bisogna averne. Analizzeremo quindi i passaggi di questa pianificazione che sono identificazione delle esigenze reali, trasformazione delle esigenze in obiettivi finanziari. Poi parleremo di orizzonte temporale, che non è unico, ma si riferisce ai singoli obiettivi. Poi analizzeremo il profilo di rischio, che è una sorta di autovalutazione per capire come sentirmi a mio agio di fronte da investimenti più o meno rischiosi. E infine la scelta degli strumenti finanziari che il mercato mette a disposizione. Fondamentale è che questa scelta deve essere coerente rispetto a tutti i passaggi della pianificazione finanziaria. Bene, ecco qui, rappresentata nella slide, un po' il percorso di questa pianificazione finanziaria. Abbiamo visualizzato il metodo della pianificazione finanziaria in un percorso a tappe, che ci aiuta a risparmiare correttamente e ad investire con il metodo. Cominciamo il percorso di questa pianificazione finanziaria. Allora, percorso che ha l'obiettivo di ricercare la coerenza tra le esigenze personali da un lato e la struttura del patrimonio per soddisfare queste esigenze. Ed ecco la prima tappa. Parliamo quindi di esigenze reali. Cosa sono le esigenze reali? Approfondiamo un po'. Abbiamo detto che la corretta gestione del denaro deve essere fatta con un metodo che chiamiamo appunto pianificazione finanziaria. L'utilizzo di questo metodo della pianificazione ci aiuta a definire gli obiettivi di vita e cercare di individuare gli strumenti per raggiungerli. Se però rimanessimo un po' a questo livello resteremo troppo teorici. Allora, ad esempio vi descrivo i miei obiettivi personali. Beh, primo colmare il mio gap previdenziale. Un altro obiettivo personale, un'istruzione di qualità, per esempio per mia figlia Giulia. Chi tra di voi ha figli oppure siete degli zii o no, ne mi capirà sicuramente. Ecco, nella nostra famiglia è importante sapere che nostra figlia potrà frequentare l'università che vorrà, in base alle sue ispirazioni, oppure che potremo sostenerla per avviare, non so, una sua attività professionale. Ed è stato importante averlo pianificato diversi anni fa. E poi, altri esempi, diciamo, arrivano dopo ma non per importanza, ci può essere, non so, l'acquisto della prima casa, o il suo implimento, oppure il contributo per acquistare quella di un figlio. Ecco, è fondamentale fermarsi e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro. Cosa veramente ci manca e cosa veramente vogliamo raggiungere. Ma approfondiamo ulteriormente questo concetto. Se chiedessi ad un trentenne di riflettere sulle sue esigenze di vita, mi direbbe sicuramente cose diverse rispetto ad un cinquantenne. Ok, il primo è in piena fase di accumulo, con uno spettro di esigenze che va, per esempio, dal lato nuova, alle vacanze, alla possibilità di comprarsi una casa per diventare indipendenti. Il cinquantenne, invece, è in una fase di conservazione, tale per cui ha come obiettivo, solitamente, lo studio dei figli, piuttosto che una casa, magari, sempre per i figli, oppure una casa per sé più grande, e via dicendo. Tutto corretto e tutto è vero, ma in realtà molto spesso si ragiona con una certa miopia, pensando che gli obiettivi di vita siano quelli di cui si ha immediata percezione. E c'è difficile proiettarci in un periodo molto più lontano. Sembra strano a dirlo, ma sia per il trentenne che per il cinquantenne, uno dei veri obiettivi di vita è quello, per esempio, di mantenere un livello di benessere una volta andati in pensione. Quindi, il consiglio per riuscire ad individuare con più l'ingimiranza i propri obiettivi è quello di guardare gli stili di vita e le necessità delle persone più anziane vicino a noi. Prima di tutto i genitori, se si ha la fortuna ancora di averli, e quindi, ad esempio, è fondamentale ritrovarsi un reddito che permetta le cure migliori, l'assistenza più adeguata, in poche parole poter vivere bene la fase post-lavorativa. Passiamo ora ad un altro aspetto importante dell'analisi delle esigenze. Abbiamo detto che ognuno di noi può avere tanti sogni, o meglio, tante esigenze da soddisfare, ma altrettanto importante è dare a questi sogni una priorità. Senza questo criterio c'è il rischio di disperdere le forze, quelle economiche e anche quelle mentali, inseguendo qualcosa che poi in realtà ci accorgiamo che non era al primo posto della lista. Quindi, prima di passare al prossimo step, ricordiamoci bene, osserviamo chi è vicino a noi e naturalmente con un'età superiore, in modo tale da individuare quali esigenze reali potremmo avere, di cui potremmo avere bisogno tra 20-30 anni, e poi è importante anche fermarsi e dare una priorità alle varie esigenze che si individuano. Ok, bene, definiti le esigenze reali, passiamo ora allo step successivo, e lo step successivo si chiama gli obiettivi finanziari. Quindi è fondamentale pensare che le risorse a disposizione servano a soddisfare le proprie esigenze, e quindi bisogna trattare il patrimonio non come un unicum indistinto, ma spezzettarlo e dedicare ogni parte di questo ad un progetto divino. Il raggiungimento di ciascun obiettivo deve essere considerato una storia a sé. Vediamo come, facendo esempi pratici, emettendo dei numeri, degli importi vicino, giusto per rendere ancora più semplice il concetto. Prendiamo il caso di un padre di famiglia tipo, avrà sicuramente il desiderio di cominciare a costruirsi una pensione integrativa per mantenere il proprio livello di benessere anche quando sarà in pensione, e poniamo questo obiettivo a 300.000 euro. Poi, ad esempio, vorrà dare, tra un po' di anni, magari un'istruzione di qualità ai figli, e quindi poniamo come obiettivo finanziario 100.000 euro. E poi, infine, aiutare i figli per l'acquisto almeno parziale di una casa, e quindi altri 100.000 euro. Bene, sono tre obiettivi completamente diversi, e quindi implicano una pianificazione diversa per poterle raggiungere, poiché ci sarà da verificare il preciso orizzonte temporale del singolo investimento, il rischio che vogliamo prenderci per ogni singolo investimento, e qui entriamo, e qui, scusate, entrano in ballo le emozioni. E, infine, dobbiamo definire anche lo strumento finanziario più adeguato. Bene, continuiamo con il nostro percorso, e analizziamo ora altri due concetti basilari, a cui abbiamo solo accennato un attimo fa, orizzonte temporale e profilo di rischio. Partiamo dal primo. È importante definire l'orizzonte temporale di un obiettivo, in modo da sapere quanto tempo ho a disposizione per raggiungerlo, con la consapevolezza che più è ampio o lungo questo tempo, e più ci permette di guardare al futuro con serenità. In merito all'importanza di avere un orizzonte temporale medio-lungo, potremmo mostrare qualsiasi grafico di indici azionari, e dimostreremo che investire in modo diversificato può consentire di ottenere rendimenti importanti. Più interessante, invece, è mostrare questa tabella che state guardando. I numeri di questa tabella dimostrano che, dopo i cinque peggiori, chiamiamoli un po' poco tecnicamente, tonfi di borsa, in realtà il mercato azionario di tutto il mondo, e qui lo rappresentiamo con un indice che si chiama Morgan Stanley Capital Investment All Country World, probabilmente i più esperti l'avranno sentito sotto l'acronimo di MSSI World, si è ripreso e dopo cinque anni i rendimenti medianui sono sempre positivi. Però ci sono situazioni in cui il crollo ha determinato una perdita di oltre il 50% del capitale. Prima, vi ricordate, parlavamo di emozioni. Per capirci, ci sarà certamente qualcuno che è entrato sul mercato il giorno prima che è iniziato un crollo. Immaginiamo come ci si possa sentire. Allora, sono un investitore, sono un risparmiatore, finalmente decido di investire su uno strumento molto diversificato e ecco che il mercato crolla. Insieme a lui, i miei soldi, nel giro di magari di poco, si dimezzano. Sì, è vero, ho studiato e so che storicamente, se tengo duro e resto fedele ai miei obiettivi, potrei recuperare e nel medio-lungo termine avere anche accumulato un bel guadagno. Questo è vero, più correttamente in passato è stato vero. E se questa volta succede qualcosa di diverso? Allora, potete immaginare come c'è veramente da impazzire a volte, vedendo l'andamento del proprio portafoglio. E in tanti, però per fortuna, non impazziscono, però magari escono dal mercato nel momento peggiore. Rimanendo nell'ambito delle emozioni, giusto per riprendere uno degli esempi personali condivisi prima, se il mio investimento è finalizzato alla futura casa di mia figlia, di fronte alle forti variazioni di mercato, per esempio faccio una data così a caso, di febbraio 2020, ricorderete la via della pandemia. Allora, se guardo solo il mio portafoglio, rischio di disinvestire sui minimi e perdermi il recupero che in realtà poi c'è stato a partire dal mese successivo. Se invece vedo mia figlia e la sua bella casetta, proiettando nel futuro l'obiettivo, è più facile che rimanga calmo e anche rimanga investito, cioè non disinvesta. Ok, passiamo invece adesso al secondo concetto di cui parlavamo, il profilo di rischio, ossia la misura della quantità di rischio che si dovrebbe assumere nei propri investimenti considerando vari fattori, come la situazione finanziaria e la propensione alle perdite. poiché la maggior parte di questi fattori è personale, il profilo di rischio varia da individuo a individuo. Pertanto, per non avere crisi personali durante le crisi di mercato è fondamentale da un lato fissare il tempo che ho a disposizione per raggiungere il mio obiettivo e dall'altra fare una sorta di autodiagnosi sulla sopportazione del rischio di mercato. Aggiungiamo un'altra considerazione per stemperare un po' le emozioni di fronte alle forti oscillazioni di mercato. E i mercati finanziari possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Ma come? In due modalità. Si può investire, appunto, in modalità PIC, cioè in un'unica soluzione, oppure in modalità PAC, cioè in modo graduale nel tempo con versamenti ricorrenti. PAC, giusto per intenderci, ci vuol dire piani di accumulo. Quindi lasciare invece i propri risparmi su un conto corrente non remunerato li può esporre a un altro rischio che è quella della perdita del potere di acquisto. Negli ultimi anni, per esempio fino al 2020, caratterizzati da una bassa inflazione e quindi non quello che stiamo vivendo adesso, e già quindi è un caso positivo questo, la perdita è stata comunque evidente. Circa il 10% in dieci anni. Nell'esempio, vedete, dal 2010 al 2020. Cioè, se io ho tenuto fermo dal 2010 al 2020 i miei risparmi sul conto corrente, il loro potere di acquisto è diminuito del 10%. Nel 2021 e soprattutto l'anno scorso, e anche quest'anno diciamo l'andamento non si discosta molto, l'inflazione è aumentata molto e a dicembre 2022 addirittura è arrivata al 12% su base annua. Anche se stiamo vivendo sicuramente periodo un po' particolare, il cui rialzo dei prezzi è concentrato soprattutto sui beni energetici. Ma consideriamo che il fatto, che l'obiettivo della politica e della Banca Centrale Europea è un'inflazione attorno al 2%, quindi questa dovrebbe essere un po' la nostra stella polare. Ogni anno più o meno dovremmo avere un'inflazione del 2%. Ora, guardiamo insieme anche questa proiezione nel futuro. Se guardiamo questo grafico, ci accorgiamo immediatamente come tenere i soldi fermi sul conto non remunerato non è proprio un grande affare. Con questi tre scenari, il capitale iniziale perderà potere di acquisto in dieci anni dal meno 10 al meno 26%. Quindi, bisogna fare veramente attenzione al concetto di liquidità, a tenere i soldi fermi in conto corrente. Sì, certo, un vantaggio a tenere i soldi in liquidità c'è, ed è la garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi, che appunto garantisce i nostri depositi fino a 100.000 euro. Ma oltre a questi importi subentra la normativa sul risanamento degli enti creditizi. I depositi, per la parte eccedente di 100.000 euro, potrebbero essere soggettati al cosiddetto bail-in nel caso di crisi della propria banca. Quindi, uno che pensa di tenere i soldi fermi sul conto corrente dice ah, non avrò assolutamente problemi, ecco, attenzione, fino a 100.000 euro, questo è vero, oltre 100.000 euro, anche tenere i soldi fermi sul proprio conto corrente potrebbe essere rischioso. Bene, dopo questo escursus su orizzonte temporale, e quindi è importantissimo che per ogni obiettivo si abbia bene in mente quanti anni ho prima di dover andare a disinvestire per andare a esaudire questo obiettivo, e l'altro concetto il profilo di rischio e inflazione, torniamo al nostro percorso della pianificazione finanziaria. Per visualizzare e capire meglio i passaggi che stiamo facendo, riprendiamo insieme l'esempio del nostro padre di famiglia, tipo, allora avevamo detto, primo obiettivo fondamentale, secondo me, garantirsi una vecchiaia serena in pensione, e sappiamo come sarà difficile farlo con la sola pensione pubblica, quella dell'Ips. Pertanto, può essere opportuno preoccuparsi per tempo ed aderire, per esempio, alla previdenza complementare. Cosa vuol dire? Vuol dire aderire ad un fondo pensione, mettendoci per chi può il TFR, cioè vuol dire per i dipendenti privati e pubblici, e versando i contributi magari a cadenza mensile, oppure trimestrare per diluire nel tempo l'impegno. Il fondo pensione, avendo un orizzonte temporale lungo, ci permetterà di rivalutare il nostro investimento e darci quindi una rendita o un capitale che integrerà la pensione Ips una volta che andremo in pensione. Nel frattempo, per il secondo obiettivo, per poter mandare il figlio all'università, si può cominciare, per esempio, un piano di accumulo, il cosiddetto PAC, di cui abbiamo citato prima l'esempio. In modo da arrivare preparato finanziariamente al momento dell'iscrizione del figlio magari all'università, un'università importante, un'università privata, magari non nella propria città e quindi con anche spese di trasferta. E infine, il nostro padre di famiglia per comprare una parte della casa per il figlio oppure per allargare la propria dedicherà una parte del patrimonio liquido in un investimento adeguato al suo profilo di rischio e con un orizzonte temporale medio circa 5 anni. Arrivato alla scadenza potrebbe aggiungere ad esempio un mutuo per la parte mancante e così raggiungere quel suo obiettivo che è acquistare la casa dei sogni. Bene, stiamo proseguendo tappa per tappa su questo percorso della pianificazione finanziaria e quindi siamo arrivati all'ultimo miglio a che esso importantissimo e cioè la scelta dello strumento più adeguato. Premetto che non esistono strumenti buoni o cattivi ma solamente strumenti adeguati o non adeguati al proprio profilo di rischio. Vediamo di capire insieme alcuni strumenti che la finanza ci mette a disposizione. esistono diversi strumenti per diversificare vi ricordate quando facevo l'esempio di prima del Morgan Style Capital Investment l'MSI World l'importanza di avere degli investimenti che vanno a comprare titoli molto diversi tra loro in tutto il mondo quindi esistono diversi strumenti per diversificare e a ciascuno corrisponde un determinato livello di rischio tendenzialmente vediamo un po' insieme quali sono quando compriamo un'azione ok diventiamo soci di quell'azienda se io compro un'azione dell'ENI io divento socio dell'ENI chi compra le azioni in caso di fallimento della società emittente può perdere l'intero capitale investito inoltre le azioni emesse da una banca da un'impresa di investimento da una società facente parte un gruppo bancario rappresentano i primi strumenti che possono essere assoggettati a quello che vi raccontavo prima il cosiddetto bail-in in caso in cui la società versi in uno stato dissesto esempio io compro le azioni della banca credito cooperativo di un piccolo paese benissimo se questa banca va in crisi e io ho le sue azioni sarò tra i primi a subirne diciamo il dissesto e quindi perdere il controvalore delle mie azioni altro esempio altro titolo quando compriamo invece un'obbligazione oppure un titolo di stato di fatto noi non diventiamo soci o di un'azienda o di una nazione ci limitiamo a prestare dei soldi siamo quindi creditori non soci creditori di quell'azienda o di quello stato anche in questo caso le obbligazioni sono soggette al rischio di insolvenza dell'emittente e possono essere assoggettate al cosiddetto bail-in nel caso in cui siano emessi da soggetti sopra menzionati e non siano garantite tra l'altro il bail-in trova però applicazione prima per i titoli azionari e poi per quelli obbligazionali facciamo un esempio specifico ritorniamo alla nostra banca credito cooperativo io ho comprato le azioni benissimo ma quella banca ha emesso anche delle obbligazioni ho comprato anche quelle obbligazioni attenzione che se quella banca incomincia ad andare in crisi prima di tutto mi verranno come dire svalutate a zero le mie azioni e se questo non bastasse anche le obbligazioni perderebbero il loro valore esempio similare alle obbligazioni abbiamo detto i titoli di stato sono obbligazioni emesse in questo caso da uno stato sovrano e presentano quindi gli stessi rischi già visti per le obbligazioni anche delle delle società qualcuno magari si ricorderà appunto i casi dell'argentina le obbligazioni in argentina più recente le obbligazioni greche e quindi anche in quel caso bisogna stare veramente molto attenti ora faccio ulteriori esempi per quanto riguarda la come dire la pericolosità eh dei azioni e obbligazioni soprattutto la pericolosità di non diversificare ipotizzate di aver messo tutti i miei soldi in una sola azione la Parmalat e questa falisce come come è successo nei primi anni 2000 oppure se se compro le obbligazioni solo di Lehman Brothers perché mi garantivano una cedola molto alta vi ricordate in 2008 Lehman Brothers in America cosa è successo oppure se metto tutti i titoli di Stato come vi dicevo prima nello Stato argentino ecco un po' ci siamo capiti proprio per questo scusate se lo ripeto per l'ennesima volta è importante diversificare parliamo ancora un po' di azioni per come dire andare ancora più nel dettaglio le azioni quindi sono le singole parti unitari in cui è diviso il capitale sociale di una società il titolare di un'azione quindi possiede un pezzettino di quella società con tutti i diritti e con tutti gli oneri le azioni possono essere quotate o non quotate nel primo caso è più facile acquistarle o vendere ad un prezzo di mercato le azioni non quotate invece quelle che noi non troviamo nella borsa italiana o nelle borse degli altri paesi possono presentare grossi problemi soprattutto al momento della vendita il rischio principale di un'azione come dicevamo è il default dell'emittente e conseguente insolvenza dello stesso inoltre le azioni bancarie come dicevamo anche prima sono soggette al rischio di bail-in riprendiamo ancora un po' e approfondiamo il concetto di obbligazione le obbligazioni probabilmente le avrete sentite anche con il nome inglese bond sono titoli di debito attraverso il quale gli stati cioè le nazioni o le imprese si finanziano quindi chiedono soldi ai risparmiatori chi acquista le obbligazioni è come se finanziasse lo stato italiano tedesco francese oppure le imprese che le hanno emesse questi ovviamente in cambio cosa offrono? offrono un interesse ogni obbligazione ha una scadenza per esempio a due a cinque a dieci anni più è lontana la scadenza maggiori saranno gli interessi offerti arrivata a scadenza le obbligazioni vengono rimborsate quindi l'impresa restituisce a chi aveva acquistato l'obbligazione l'intero importo durante il ciclo di vita l'obbligazione distribuisce le cosiddette cedole periodiche per un valore pari appunto all'interesse pattuito all'inizio passiamo ora ai rischi di questi strumenti il rischio principale di un'obbligazione è anche qui il default dell'emittente e conseguente insolvenza dello stesso è possibile incorrere in perdita a seguito dell'attività di compravendita delle obbligazioni qualora l'acquisto avvenga ad un prezzo maggiore di quello di rivendita o di rimborso vanno considerate anche il rischio di liquidità dello strumento ovvero il suo mercato in caso di rivendita il rischio di cambio legato alla valuta dell'obbligazione con obbligazioni in euro il rischio viene meno è il rischio legato all'andamento dei tassi ma solo qualora non si intende a portare a scadenza l'obbligazione inoltre le obbligazioni bancarie diverse da quelle garantite lo ripetiamo ancora sono soggette al rischio del bail-in ovvero il potere di svalutazione con possibilità di azzeramento del valore nominale nonché di riconversione in titoli di capitale dei titoli ora facciamo un ulteriore passaggio ad altri strumenti quindi noi abbiamo visto possiamo definirli gli strumenti di base le azioni e le obbligazioni esistono invece degli strumenti che hanno già nel proprio DNA il concetto di diversificazione per questo li abbiamo rappresentati come dei portafogli e graficamente separati sono i fondi comuni di investimento le SICAV e gli ETF ETF l'acronimo di quest'ultimi sta per Exchange Traded Funds quindi sono sempre fondi ma scambiate sul mercato come se fossero delle azioni cosa sono? sono un particolare tipo di fondo comune mi sto riferendo all'ETF naturalmente caratterizzato da una gestione passiva gestione passiva cosa significa? ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice di riferimento sia che questo sia azionario obbligazionario o monetario i vantaggi di questi ETF beh direi principalmente due uno la diversificazione e ne abbiamo già parlato due l'accessibilità si possono investire importi anche piccoli 1000 euro oppure anche 100 euro e con un solo strumento comprando un solo strumento che fa riferimento a un indice intero compriamo in realtà migliaia di azioni obbligazioni o titoli di stato per completezza nella slide abbiamo inserito anche i fondi di fondi cosa sono? sono degli strumenti che possiamo dire fanno un passo in più perché il singolo fondo invece di comprare singoli strumenti cioè azioni obbligazioni comprano a loro volta altri fondi e qui ci sarebbe una sorta passatemi il termine di una diversificazione al quadrato entriamo un po' più nel dettaglio di questi strumenti e quindi iniziamo con i fondi fondi comuni di investimento sono strumenti di investimenti gestiti da SGR cosa vuol dire SGR? società di gestione del risparmio che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono come un unico se fosse un unico patrimonio le investono in attività finanziarie quindi in azioni obbligazioni titoli di stato rispettando regole volte a ridurre i rischi questi fondi comuni sono suddivisi in tante parti unitarie dette quote che vengono sottoscritte dal risparmiatore la gestione è affidata da un team di esperti questa gestione si chiama appunto gestione attiva vi ricordate che poi lo riprenderemo invece gli etf avevano una gestione passiva invece i fondi comuni di investimento hanno una gestione attiva così come anche le SICAF accanto alla forma tradizionale di fondo comune la stessa attività di investimento può essere svolta da società di investimento a capitale variabile vedete che l'acronimo di queste ultime parole che vi ho detto sono le cosiddette SICAF società di investimento a capitale variabile sono uno strumento molto simile ai fondi comuni e poi torniamo invece agli etf come già detto sono un particolare tipo di fondo comune caratterizzato da una gestione passiva ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice di riferimento sia questo azionario obbligazionario o monetario i rischi principali sono per lo più legati all'andamento dei mercati e quindi dei titoli sottostanti appunto all'etf e infine dato che li abbiamo citati in qualche slide che abbiamo presentato prima vediamo cosa sono nel dettaglio quali rischi comportano i fondi pensione allora il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi dei risparmiatori e molto spesso dei lavoratori e le investe in strumenti finanziari allo scopo di erogare una prestazione pensionistica questa è la vera diversità rispetto ai fondi SICA e agli etf il fondo pensione ha uno scopo quello di erogare una prestazione pensionistica cos'è questa prestazione pensionistica o è una rendita vitalizia o è un'erogazione di un capitale in questo ultimo caso assomiglia molto invece al fondo alla SICA o all'etf la vera peculiarità del fondo pensione è quando si chiede al fondo pensione una rendita vitalizia la rendita vitalizia al termine della vita lavorativa appunto dei lavoratori il rischio anche qui è legato all'andamento dei mercati e degli strumenti in cui investe allora abbiamo terminato questa nostra chiamiamola passeggiata all'interno della pianificazione finanziaria giusto per rifissare un po' i concetti che abbiamo espresso che abbiamo cercato di rendere il più semplice e comprensibile possibile allora la pianificazione è un metodo che ci permette di gestire e non solo di accumulare il denaro ribadisco un discorso è accumulare e magari tenere fermo sui conti correnti un altro discorso è gestire attraverso la pianificazione finanziaria questa pianificazione è un percorso a tappe il primo passaggio è fermarsi e individuare le vere nostre esigenze però con occhio lungimirante il secondo passaggio è trasformare la singola esigenza in un obiettivo finanziario facciamo un esempio devo devo crearmi un patrimonio per quando andrò in pensione e colmare il mio gap pensionistico di quanto avrò bisogno 300.000 euro ecco che ho trasformato queste esigenze in un obiettivo finanziario e quindi cosa vuol dire accostare un importo al nostro sogno per renderlo tangibile e infine individuare la soluzione migliore per raggiungerlo poi abbiamo parlato di orizzonte temporale e profilo di rischio i due elementi che permettono di scegliere correttamente quello che è l'ultimo passaggio della pianificazione cioè lo strumento migliore per raggiungere i nostri obiettivi e infine abbiamo visto un po' quali sono questi strumenti sono le azioni le obbligazioni i fondi i fondi di fondi sono un po' alcune soluzioni che posso utilizzare proprio per raggiungere i miei obiettivi abbiamo citato naturalmente per semplicità quelli meno complessi il mondo finanziario ci sta abituando a strutture e a tipologie di strumenti sempre più difficili da comprendere sempre più più complessi solamente chi è veramente esperto ha la possibilità di trovare un guadagno in questi tipi di strumenti per chi invece non è proprio del settore è consigliabile assolutamente focalizzarsi su questi primi strumenti che vi ho accennato bene io direi che questa è stata una passeggiata rapida ha l'obiettivo proprio di dare le prime basi come dicevamo all'inizio come se fosse un po' prendere in mano un po' un bugiardino di una di una medicina oppure informarsi su le prime i primi concetti di base della salute che noi dobbiamo curare dato che è forse il nostro bene primario ecco se non è proprio il bene primario anche il denaro è un bene di cui ci dobbiamo veramente prendere cura e l'obiettivo di questo nostro intervento è focalizzarci su come si gestisce il denaro e quali sono i passi da fare e quello che vi ho suggerito oggi pomeriggio è proprio affidarsi a quella che è appunto il metodo della pianificazione finanziaria bene grazie per l'attenzione e se non l'avete ancora fatto date anche uno sguardo alle altre iniziative di formazione che proponiamo a presto